Il Venezia Football Club questa sera con Ficchio inizio alle 20.30 affronta il Palermo nella semifinale di ritorno dei play-off con l'obiettivo di passare il turno per raggiungere la finale continuando ad inseguire il sogno della promozione in Serie A. Stadio Pieruigi Penzo di Sant'Ena tutto esaurito con quasi 11.000 spettatori. A pochi minuti dal Ficchio inizio il pensiero di Milter Paolo Vanoli. Mi aspetto come sempre a una grande partita con due squadre importanti, soprattutto con una cornice di pubblico fantastica. Anche questa volta i tifosi ho visto le immagini della fila per arrivare a questi biglietti. Questa è la cosa più emozionante e più bella che ci poteva accadere. Dobbiamo pensare ad andare in campo, dare il massimo che abbiamo sempre dato quest'anno e cercare sul campo di prendere questi tre punti senza pensare a quel vantaggio che abbiamo. Per passare il turno i ragunari possono vincere, pareggiare, anche perdere con un gol di scarto in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Ma il Venezia pensa solo alla vittoria. Quello che ho detto all'andata, quello che serve in questi play-off quando fanno andata e ritorno, lucidità, lucidità mentale, organizzazione e soprattutto spirito di gruppo. quello che serve quando hai cinque cambi, come è successo a Palermo, chi è entrato veramente ha tenuto alta la qualità di questa squadra.